Buona giornata a tutti coloro che si sono messi davanti al video per vedere la rassegna stampa di Fano TV. Oggi è martedì 20 giugno 2023. Vediamo subito chi si festeggia oggi. Non abbiamo la grafica questa mattina ma sappiamo che si festeggia la Beata Vergine Maria Consolatrice e questo un titolo che alla Madonna è stato riservato fin dai primi momenti del cristianesimo. È la consolazione di tutti i dolori. Maria testimonianza di come Gesù possa andare incontro agli afflitti rincorandoli e poi c'è quella bellissima espressione nell'elenco delle beatitudini, beati gli afflitti perché saranno consolati. Le previsioni del tempo. Sole, sole, sole su tutta la regione. Cieli in prevalenza sereni o comunque poco nuvolosi per l'intera giornata. I venti saranno al mattino moderati da ovest e sud-ovest, al pomeriggio da est e sud-est. Il mare è quasi calmo e le temperature oscillano dai 15 ai 30 gradi, insomma, anzi molto di più rispetto alle minime. Si alza al mattino è ancora caldo, quindi le temperature sono prettamente estive. Alcuni dicono dai 22 ai 29 gradi, quindi c'è una disparità per quanto riguarda i rilevamenti, però insomma diciamo più 22 che 15 gradi per quanto riguarda le minime. Ma vediamo un attimo cosa dice il nostro interlocutore, il nostro concessionario di spiaggia Marco Giacomi dei bagni ALDA di Ponte Sasso. Ciao Marco, buona giornata. Buongiorno a tutti. Vediamo dietro di te un sole splendente, veramente al mattino l'alba nella tua spiaggia deve essere uno spettacolo meraviglioso. È vero, peccato il mio faccione qui davanti, altrimenti è veramente bello. Beh ma tu lo guardi tutte le mattine l'alba, insomma, vedo che... Sono uno dei fortunati, diciamo così, ecco. E quindi ti svegli presto, ti svegli. Esatto. E poi godere... E mi hanno detto tardi. E godere la spiaggia al mattino quando c'è poca gente, devo dire, è veramente una sensazione molto molto bella. Sì, si sente il rumore del mare, rilassante, è una cosa da consigliare a tutti, veramente. Senti Marco, la tua concessione, quali servizi offre ai clienti? Che cosa offri per passare una vacanza in relax, in serenità? Guarda, noi offriamo dalla prima colazione, al pranzo, all'aperitivo, mini club, giochi di magia, durante la settimana, trucca bimbi, abbiamo un po' di tutto, basket, massaggio, di tutto, c'è zona fitness, campo sintetico, capi da beach volley, ci manca un po' di spiaggia, forse perché ci sono troppo altre cose, ma se no per il resto cerchiamo di fare il meglio per accontentare tutti. Bene, quindi ci si può stare tutta la giornata, insomma, in spiaggia, dall'alba al tramonto, si ha di tutto, ecco. Senti, si vedono anche qualche turista straniero, cominciano ad arrivare qualcuno? Sì, nella nostra zona sono più italiani che stranieri, però cominciano ad arrivare pian piano, con l'arrivo del bel tempo fortunatamente, che durerà fino a venerdì sera, poi sabato sembra che ci sia due goccioline d'acqua e un po' di vento forte, poi domenica torniamo con il sole a 27-28 gradi. Benissimo Marco, tu sarai il nostro meteorologo preferito, per cui ci affidiamo a te per le previsioni del tempo, quindi anche domani sentiremo come sarà il caldo, come sarà il sole e come sarà appunto l'atmosfera sulla tua spiaggia. Grazie Marco e buon lavoro e buona continuazione. Buona giornata a tutti, grazie, buona giornata. Allora, noi riprendiamo la nostra rassegna stampa, aprendo il giornale questa mattina sulla pagina di Fano del resto del Carlino e vediamo un articolo che riguarda gli scavi di Vitruvio, quegli scavi che hanno suscitato tanto entusiasmo nel momento in cui sono stati effettuati e hanno messo in luce dei reperti molto interessanti che hanno fatto pensare al ritrovamento della Basilica di Vitruvio, ma questo deve avere una conferma. Ebbene, vediamo subito il titolo, Vitruvio dall'entusiasmo allo stallo e la Basilica resta un miraggio. Ebbene, c'era molto entusiasmo, quindi c'è anche molta curiosità di sapere veramente se quegli reperti appartengono alla Basilica di Vitruvio, ma sembra che da parte degli interessati almeno ci sia un certo rilassamento, non c'è molta fretta. A distanza di tre mesi dal ritrovamento dei resti dell'antico edificio romano, il cantiere è fermo. Beh, questa volta non è colpa della soprintendenza perché questa ha già aggiudicato i lavori, ma gli archeologi non sono ancora operativi e tutto tace, non c'è una giustificazione per questo ritardo, non si sa quando arriveranno. Insomma, un articolo questo che dimostra come la gente vuole che si sappia, si dia una risposta definitiva per questo che è un evento che può dare un impulso turistico molto importante, a parte quello culturale ovviamente, alla città di Fano. Quindi occorre far presto. Fateci sapere quando iniziate gli scavi e come questi procederanno. Sarebbe bello anche che questi possano avvenire con l'intervento delle scolaresche, perché i giovani devono sapere come si procede durante un ritrovamento archeologico, quali sono gli effetti, quali sono le tecniche. Sarebbe veramente un esperimento didattico di grande importanza. Vediamo le altre notizie. La Lega, eventi chiassosi e notti insonni servono regole condivise. Abbiamo visto come nei giorni scorsi a Pesaro soprattutto è nata la polemica tra chi vuole una vacanza rumorosa, una vacanza di divertimento, una vacanza di musica e chi invece vuole riposare. È una vecchia polemica che ricorre quasi costantemente in tutte le state, in tutte le località. Ebbene anche a Fano si evidenzia questo problema, lo evidenzia la Lega tramite Luigi Scopelliti, consigliere comunale, che invita l'amministrazione comunale a fare chiarezza sui regolamenti che consentono appunto ai bar e ai istoranti di fare musica fino a un certo decibel, fino a una certa ora durante la notte, in modo che le due esigenze tra chi vuole divertirsi e chi vuole riposare, possono essere conciliate. Saltiamo le pagine, guardate che due pagine il resto del Calino dedica al programma del Festival Passaggi, festival che comincia domani. Veramente tantissimi gli appuntamenti in cinque giorni di eventi, di manifestazioni che si svolgono in diversi palcoscenici della città di Fano. Ci sono veramente personaggi prestigiosi, personaggi molto noti, personaggi della cultura, del giornalismo, ma anche della saggistica, soprattutto scrittori che hanno libri in pubblicazione in diversi argomenti. E poi il resto del Calino parla ancora dell'Interquartieri, perché è quasi prossimo la scadenza del 30 giugno, in cui dovrebbero essere concessi i lavori. Interquartieri pressing sugli uffici comunali. L'assessore all'urbanistica, il vice sindaco Cristian Fanesi, scrive a Massimo Seri, al sindaco, dicendo dai la carica ai tecnici del Comune perché predispongono tutto entro la scadenza del 30 giugno prossimo, in modo che si possa veramente andare avanti su questa dibattuta e discussa delibera. Il vice sindaco Cristian Fanesi scrive a Seri, i tempi sono strettissimi e il rischio è di perdere 20 milioni, ognuno faccia la sua parte. Ieri una bella iniziativa è stata presentata al Vallato, nella chiesa di San Paolo Apostolo, una comunità questa che ha realizzato la Casa della Comunità, così è stata chiamata. Al Vallato è tutto pronto, l'inaugurazione è una festa, Casa della Comunità ha presentato il cartellone degli avvenimenti. Dal 26 giugno al 3 luglio, pesca di beneficenza, partite di calcio e incontri sono alcune delle iniziative che vengono realizzate a partire dalla festa di San Paolo e di San Pietro il 29 giugno prossimo. Io sono qui da sette anni, ha detto il parroco Don Francesco Pierpaoli, ma questo spazio è stato sognato da molto più tempo, ebbene si tratta di una casa in cui tutti possono entrare, una casa aperta a tutti, giovani, meno giovani, fanesi, non fanesi, insomma a tutti coloro che hanno bisogno di una struttura per qualsiasi esigenza. Si tratta di 600 metri quadri al piano terra, 200, un unico salone polifunzionale, 300 al piano superiore, in tutto 8 aule per la catechesi, tutte indipendenti, 4 al piano superiore, 4 all'inferiore, dove insistono anche i servizi. C'è anche un magazzino, la centrale termica, spazi privi di barriere architettoniche, all'esterno un porticato coperto che lega un po' tutta la struttura, una bella struttura che così arricchisce tutta la comunità di Vallato, una comunità parrocchiale molto ampia. La struttura è costata un milione e mezzo di euro, 861 mila finanziati con l'otto per mille dalla CEI e il resto dalla diocesi, è un contributo della Regione. C'è stata anche una bella raccolta da parte dei residenti del Vallato. E restiamo in tema ecclesiastico, perché veramente quello che è accaduto a San Costanzo è inqualificabile. Prete aggredito da un automobilista, gli avevo detto solo di rallentare. Chi non conosce Stefano Maltempi? Don Stefano Maltempi e il parroco appunto di San Costanzo aveva redarguito un automobilista che passava nel corso del paese a forte velocità, c'è un limite di 30, lui li superava abbondantemente e quest'ultimo cosa ha fatto? Si è fermato, è sceso dall'auto, è andato incontro al sacerdote. Non si capiva che era un sacerdote perché Don Maltempi, lo vedete, come era vestito, ma chi lo conosce ovviamente sa che è il parroco della frazione, è il parroco del comune del paese, scusate il termine frazione, e gli ha dato una gran manata in faccia. E' successo venerdì sera in corso Matteotti, l'ho visto sfrecciare, ha detto Don Maltempi, l'ho redarguito, quello è sceso e mi ha messo le mani addosso. Se ho sporto denuncia, no, non l'ho fatto. Un passo del Vangelo di San Luca dice perdonate e sarete perdonati. Comunque veramente, se non l'ha fatto lui, qualcuno potrebbe non perdonarlo perché è un atto veramente inqualificabile, come ho detto. E poi a Marotta invece, a Marotta ci sono problemi per quanto riguarda parcheggi, li evidenzia un consigliere comunale. Si tratta di buon accorsi, continuano a far discutere i parcheggi a pagamento a Marotta, entrati in vigore il 15 giugno scorso, perché non sarebbero regolari, ovvero il loro disegno non risponderebbe alla normativa ed è questo un provvedimento che il comune dovrebbe correggere. Un articolo di cronaca a fondo pagina, tentato omicidio, resta in carcere l'accoltellatore, è il 25enne albanese che è stato arrestato dai carabinieri mercoledì scorso ed era già noto anche per i suoi precedenti, per le sue intemperanze. Ha ferito con due coltellate un ragazzo marocchino di un anno più giovane a Villanova di Colli al Metauro nel parcheggio del Conad City. L'accusa nei suoi confronti e di tentato omicidio è aggravato, lo evidenzia una nota appunto dei carabinieri. Passiamo ad Urbino. Urbino ospiterà un convegno di grande importanza in tema di geologia. I massimi esperti nazionali dei geologia saranno a convegno per tre giorni nella città Ducale. Ci sarà anche una visita alle zone alluvionate di Cantiano e di Senigallia. Ebbene, le Marche purtroppo nell'ultimo anno hanno rappresentato un terreno da studiare, da assundare dopo quanto accaduto con le ricorrenti alluvioni, un po' come avvenuto con l'Emilia Romagna. Il Vice Presidente della Commissione Grandi Rischi si prenderà parte ai lavori e alle uscite sui territori. Quindi un'importante iniziativa. E intanto i ragazzi, quelli che si preparano per l'esame di maturità, per così lenire la tensione, cosa fanno? Vanno a spalare il fango. Ragazzi spalano il fango a faenza, così si vince lo stress da esame. Un'esperienza importante per un gruppo di studenti della Quinta A di Chimica ad accompagnare tutti il Professore Panaroni. Sono i ragazzi dell'ITIS e Mattei che hanno compiuto questa bella esperienza. I quali vediamo tutti sporchi di fango, però felici, allegri per questa bella impresa. E parliamo ancora di parcheggi, perché ci sono proteste anche a Cagli. Vediamo che i parcheggi blu sarebbero evitabili perché sono stati fatti. Il Comitato dei Cittadini interroga l'amministrazione comunale dicendo ma c'era proprio bisogno di aumentare il numero di parcheggi a pagamenti nel cuore del Paese, nel cuore di Cagli davanti appunto al Palazzo Storico che fronteggia la piazza e perché poi questi ultimi non sono stati prima preceduti da un consulto con la cittadinanza. C'era veramente bisogno di aumentarli. Non sarebbero previsti, però la città ha ottenuto un contributo statale per realizzarli. Ecco perché appunto questi sono stati aumentati. Ancora vediamo Fossombrone. Murales di carta incendia la politica, rimarrà a lungo in bella vista. Non c'era il tempo per dipingere un murales sul giro d'Italia in un edificio di proprietà comunale. Allora che cosa hanno fatto? L'hanno fatto sulla carta, l'hanno disegnato sulla carta e poi la carta è stata incollata sulla facciata. Poi però è arrivata la pioggia, è arrivato il maltempo e questa carta si è sfilacciata. Purtroppo dovrà restare così fino a settembre. Progetto comune polemizza con il vice sindaco Michele Chiarabilli che difende la scelta fatta. Perché non hanno pensato prima alla rimozione? Dovremo aspettare davvero fino a settembre? Questo l'interrogativo che si pone all'amministrazione comunale. Vediamo anche qualche notizia di Pesaro dove si teme che l'acqua sporca crei problemi alla salute. Si tratta dell'acqua del mare. Ma il bagno lo facciamo o no? E questo l'interrogativo. L'ARPAM, che è l'ente che è deputato per controllare la salubrità dell'acqua, dice tranquilli, l'acqua è ok. Giorgio Catenacci, direttore tecnico scientifico appunto dell'ARPAM, dice che i controlli confermano che non ci sono rischi. Però insomma, tratti di mare hanno un brutto colore a causa, dice, della fioritura di certe alghe. Un fenomeno questo che dovrebbe estendersi in primavera. Quindi ancora siamo in primavera, ma insomma siamo lì per l'estate perché ormai siamo il 20 giugno. Domani è il solstizio di estate. Tutto bene il solstizio, quindi non il giorno pari alla notte. domani è il giorno di più luce per quanto riguarda le ore appunto dove splenderà il sole. Maturità, il paradosso. Vengono dalla Romagna costretti all'esame facile, ma loro non ci stanno. Leggiamo questo articolo perché è interessante. C'è una studentessa che è originaria di un comune dell'Emilia Romagna. si tratta di Montescubo e Monte Colombo nel Riminese, però frequenta il liceo di Pesaro. Allora però avrebbe diritto di fare un esame senza gli iscritti, come tutti gli studenti che sono stati colpiti dall'alluvione nell'Emilia Romagna. Ma questa ragazza però vuole essere trattata alla pari come tutti gli altri. è una studiosa, sa quali sono le sue potenzialità, è brava a scuola e vuole essere trattata come tutti gli altri, cioè vuole fare gli iscritti e vuole fare gli orali. Ne ha diritto, secondo il preside Riccardo Rossini, che è presidente poi dell'Associazione Presidi delle Marche, che favorisce questa scelta fatta da questa giovane maturanda, ecco diciamo meglio, maturanda, che vuole essere parificata a tutte le altre. Un bel esempio di ragazza studiosa. Ed ora passiamo alla cronaca. Una raffica di furti in via Sirolo, ladri scatenati in otto appartamenti, rubati ovunque, gioielli e denaro. In più di un caso usate chiavi universali per entrare direttamente dal portone con i residenti fuori. Una brutta sorpresa per una giovane coppia che era andata in vacanza per qualche giorno, quando è tornata ha trovato il proprio appartamento completamente svaliggiato. Erano spariti soldi, circa 8 mila euro, una cifra considerevole, così come un collare d'oro di notevole valore. Poi i ladri hanno visitato altri appartamenti, altri appartamenti di tre palazzine, e hanno fatto le stesse razzie. Vediamo ora le notizie sul Corriere Adriatico. L'apertura sulla pagina di Fano è dedicata a una dichiarazione del Sindaco sulla strada di Gimarra. Il Sindaco, nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, mentre si approvava la delibera che interessava l'ultimazione dell'Interquartieri, è rimasto sempre in silenzio, il che aveva fatto, così, supporre una certa sudditanza. Non dovrebbe essere, non avrebbe dovuto essere d'accordo il Sindaco in questa delibera, ma non era intervenuto. Invece oggi il Sindaco chiarisce la sua posizione, dice che la strada di Gimarra è utile, gran parte della città la vuole. E quindi interviene, perché poi, come abbiamo visto, anche con la lettera di Fanesi, questo possa realizzarsi tranquillamente secondo i termini dovuti entro il 30 giugno. Flaminia, anche Rociano chiede l'autovelox. I giorni scorsi c'è stata una riunione a Rociano, organizzata da Rociano insieme, per ottenere più sicurezza sulla strada Flaminia, la strada che attraversa completamente la frazione. Ci sono verificati, purtroppo, tanti incidenti. Ora, l'amministrazione comunale sembra che sia disposto insieme alla provincia ad ampliare il marciapiede che costeggia la statale, però questo non basta ai residenti, i quali vogliono qualcosa di più, vogliono più sicurezza, vogliono un autovelox che consenta agli automobilisti di ridurre veramente, concretamente, la velocità. E poi c'è il ramarico, perché la rotatoria prevista davanti alla vecchia chiesa di Rociano sembra che ritardi. L'amministrazione comunale l'ha confermata, ma al momento non ha i soldi per realizzarla. Anche il Corriere Adriatico parla della casa della comunità che verrà inaugurata il 29 di giugno a San Alvallato, così la chiesa si apre a tutti. L'edificio ecologico della parrocchia costruita in poco più di un anno. E poi sul Corriere Adriatico abbiamo una novità. Ignazio Pucci sarà dirigente della cultura e del turismo. Il ruolo di dirigente della cultura dopo andata in pensione della precedente titolare era vacante. Ebbene, Ignazio Pucci, dice Andrea Maduzzi, sul Corriere Adriatico, che sarà il nuovo dirigente comunale dei servizi educativi, cultura e turismo del Comune. Non c'è ancora l'investitura formale, ma l'esito delle prove del concorso espletate all'inizio del mese non lasciano interrogativi, quindi è palese, e quindi si appresta, si aspetta la nomina ufficiale, la nomina formale. Ignazio Pucci è una vecchia conoscenza della politica, è stato segretario della democrazia cristiana, dirigente della provincia, poi ora in regione, e quindi sarà dirigente dell'amministrazione comunale. L'Occoltella dopo la lite al bar arrestato per tentato omicidio, si tratta del 25enne albanese di cui abbiamo già parlato, due fendenti al rivale per un marocchino di 24 anni, e quindi l'albanese è stato così accusato di tentato omicidio. E poi c'è stato un salvataggio, un salvataggio anche questo curioso, un vitello, un vitello si era sperso rispetto alla Mandria, si era infrattato in un luogo molto impervio del territorio di Colli Alba, Metauro, il proprietario è andato alla sua ricerca, lo ha trovato, ha dormito con lui la notte, finché non sono arrivati i soccorsi tramite un elicottero. Pensate, veramente, è un'avventura. E poi parliamo ancora di San Costanzo, perché si profila la Sagra Polentara, ma non sarà l'unico appuntamento che rallegrerà l'estate, ce ne sono ben 45, pensate. E con l'invito a leggere questo articolo per tutte le manifestazioni che si svolgono a San Costanzo, chiudiamo la nostra rassegna stampa, dandovi appuntamento per l'informazione questa sera alle ore 20.30 con il Tg di Fano TV e domani per la rassegna stampa alle 7.00. Grazie per l'ascolto. A risentirci.